Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova guida di Fortnite Fortbyte numero 06 Segna dati non validi perché ancora deve uscire dato che sto registrando questo video ancora prima che tutte le sfide escano Ma tranquilli, vi dico subito cosa serve e dove dovete andare per scovare questo Fortbyte Questo ci dice che sarà accessibile utilizzando Limot e Viva all'interno di un negozio di gelati nel deserto Quindi controlliamo subito il pass battaglia ragazzi Come potete ben vedere Limot e Viva si trova a livello 14 ed è proprio questa Ci buttiamo subito nella mappa e vi faccio vedere dove si trova il Fortbyte Come dice la descrizione di quest'ultimo quindi ci dobbiamo dirigere a sud-est della mappa ovvero nella zona desertica Infatti il negozietto si potrà localizzare proprio di fronte al circuito dei kart ovvero qui In questo momento si trova proprio sotto di noi e sicuramente avrete capito di che negozio stiamo parlando Nel momento in cui sarete arrivati ragazzi entrate nella parte anteriore, girate il bancone e qui vicino alla macchinetta dei gelati ci sarà posto il nostro Fortbyte Come già detto nel momento in cui sto registrando questo video ancora non è uscito quindi non ve lo posso mostrare qui ma fidatevi che sarà proprio in questa zona Lo ricordo bene perché era presente anche nel teaser della stagione 9 come si vede da qui quindi ragazzi super tranquilli Appena entrerete in questo negozio che vi vado nuovamente a pinnare ovvero qui troverete il Fortbyte bloccato Utilizzate l'immote viva ovvero questa e si sbloccherà lo prendete e tornate in lobby Io spero che questo video come sempre vi sia stato d'aiuto se così fosse vi invito a lasciare un bel like condividerlo con tutti i vostri amici Fatevi vedere dove si trova il Fortbyte numero 6 e soprattutto condividete la playlist qui sotto in descrizione Noi ci becchiamo molto e molto presto un salutone da Martix Ciao brothers Ciao